Daniele Andriani, un intellettuale di stampo giovanile. In questo video di oggi vado ad esaminare il buon Daniele Andriani, un ragazzo molto giovane, classe 1995 se non erro, ma che nonostante la sua giovanità è un ragazzo davvero d'oro, un ragazzo davvero ineccevibile. Costui ho avuto il piacere di conoscerlo ad un raduno che lui stesso ottenne qui a Roma, precisamente a Piazza del Popolo, poi ci spostammo a Villa Borghese. È un ragazzo secondo me che ne sa tanto degli esseri umani, è una persona che studia anche lui come me i comportamenti umani e al tempo stesso considero un grande, immenso comunicatore. L'età non pregiudica le conoscenze, mi sento di dire questa frase nei suoi riguardi perché, ripeto, nonostante i suoi anni così poco elevati, è una persona che considero matura dentro, che soprattutto ha una grande sapienza. Credo che le porte del giornalismo italiano per lui saranno spianate e soprattutto saranno aperte. Con questo voglio dire che questo ragazzo può contare su una dialettica efficace, può contare su un modo di essere amabile, quindi genuino e gentile, può contare anche su una sua, chiamiamola, sicurezza che deriva da una piena padronanza della lingua italiana. Insomma, Daniele Andreani possiamo considerarlo come il sapiente di YouTube Italia. Un essere umano capace di intaurare discorsi utilizzando un linguaggio forbito e soprattutto utilizzando una grande intelligenza. È una persona matura, è una persona davvero speciale e credo che vada a essere un valore aggiunto per quanto riguarda la community di YouTube. Io credo che Daniele abbia in corso avuto la possibilità di sperimentare sul campo quelle che sono le sue competenze, abbia avuto la capacità di mettere a frutto quelle che sono le sue doti e soprattutto credo proprio che, come ho sentito da lui stesso in una recente intervista che ha fatto Arroy, il suo sogno sarebbe quello di diventare un giornalista e ripeto nuovamente che dal mio punto di vista la strada per quanto riguarda il mondo del giornalismo, in lui la vedo spianata. Lo vedo un tragetto non in salita ma un tragetto in discesa. Questo perché? Perché ha talento, perché è in gamba, perché ha capacità e soprattutto perché non gli manca l'uso della parola. Parola che utilizza in maniera proficua, parola che utilizza in maniera efficace, parola che va a sfruttare in maniera equilibrata. Ecco, avere una persona come Daniele Andreani in politica significa che probabilmente, probabilmente, ripeto, qualcosa va a fare. Qualcuno potrebbe dirmi, ma tu caro Leandro probabilmente non ti vuoi rendere conto che Daniele Andreani è un grande comunicatore, questo significa che essendo un comunicatore nel mondo della politica potrà fare ben poco, anzi farà tutte chiacchiere e zero fatti, come si suol dire, tutto chiacchiere e distintivo. Ecco, io a questa frase rispondo controbatto dicendo, probabilmente potrebbe anche essere vera questa affermazione, perché in generi i grandi comunicatori non hanno fatto nulla per il Paese Italia, però se da un punto di vista c'è questa, chiamiamola, situazione, da un altro c'è la situazione secondo cui basta esaminare le parole di Daniele Andreani, basta vedere, basta capire chi si ha davanti per rendersi conto in maniera concreta che costui può, secondo me, avanzare e può entrare veramente innanzitutto nel ben impaginato mondo del giornalismo italiano, ma in secundis anche nel mondo, chiamiamolo, della politica italiana. Consiglio di seguirlo perché? Perché comunque lui dà la misura delle cose, dà la misura degli esseri umani e soprattutto ha più di 2.900 iscritti, cioè, insomma, ha dei grandi numeri, eh, e lasciatemi dire che per chi non fa scoreggere, non fa rutti, non fa peti e non fa cazzate e non tratta trash, è un bel numero, perché in genere qua su YouTube tutti vogliono vedere il trash, no? Anche tu probabilmente sei qua perché pensi di trovare il divertimento, no? Perché magari ti fai due risate con la mia faccia, no? Perché dici tanto, vediamo questo coglione di Leandro, vediamo il coglione, no? Il coglione sta facendo i soldi, caro amico, il coglione sta avendo buona fama, sì, ci sono anche deficienti che prendono per il culo, però li lascio perdere, tutto qua, va bene? Detto ciò, grazie a tutti per la visione e per l'ascolto, io sono serio quando parlo, non sono una persona che bleffa, anche se a volte bleffo perché mi piace bleffare, mi piace fingermi e fare il finto coglione, è volutamente fatto, perché? Perché in questo modo non annoio il mio pubblico, utilizzando determinate espressioni, e basta, tutto qua, non per altro, anche perché se cresce il canale io non sono contento chiaramente, non mi dispiace, sono sincero, non è per me un motivo di svantaggio, ma è un motivo di vanto. Poi, se ognuno la intende come vuole, ognuno la intende come vuole, come giustamente e doverosamente vuole, deve, io però la intendo così e mi interfaccio a concludere il discorso dicendo Daniele Andreani va seguito, ne sa molto, è una persona carismatica, ha un grandissimo carisma ed è una persona molto cordiale. Ha capacità giornalistiche, il mondo del giornalismo, sono convinto che per lui sarà un percorso tutto in discesa e non in salita. Detto ciò, un saluto caro, iscrivetevi al prossimo video da Leandro Conoscitore Italiano.